Ok, abbiamo questa signorina, aspetta che mi sposto più in qua, che adesso prova a camminare sul tappeto musicale, anche se è una lezione di pianoforte. E lei deve però, cosa fai? Con i TA, quelli lunghi? TA! Ok, allora, pronta via! Ah, e si è mangiato il DO! Ma ti sei accorta che eri quasi, che facevi dei titti quasi quasi? Allora, TA! Quindi questi sono dei TA veloci. Ora prova a fare dei titti, vediamo, titti 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 veloci. Titti titti titti. Aha, ma devi andare bene su quelle note, però... Ah, va bene! Adesso quello che io reputo il più difficile, TA TA, note lunghe. Aiuto! Molto bene Francesca Allora vieni qui Ti va di tenere questo Gira da qui così lo puoi vedere Tienilo così No, se tu lo metti in questo modo Non si vede bene Scusami, tienilo così Brava, sei pronta? Ci prova il maestro E allora con il tasto Aiuto Molto bene Ora con i titti Ti, 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 ti Ah 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 Molto bene Ora con il ta Ok E allora grazie Francesca per favore al pianoforte E continuiamo e lo facciamo al pianoforte Ah ah Allora vediamo Quindi Prima Ti chiedo Con un solo dito Di fare Come dei ta Pronta Via Secondo me erano un po' troppo veloci Ci riproviamo Pronta Via Prova ad andare insieme a questo tempo Molto bene Molto bene Ora Con l'altra mano Così la facciamo allenare Re Ta Ta Pronta Via Via Vi piacciono i capelli di Francesca Che prendono un po' Adesso è molto difficile Perché sono i titti Pronta via Ok Molto bene Un salutone Ciao ciao No Si l'abbiamo fatta all'inizio C'è nel video Ciao video Ciao Ciao